www.merizopoli.it, Eurovita è stato trovato l'accordo, l'accordo raggiunto tra i big assicurativi che sono Intesa Vita, Generali, Poste e Unico alle Allianz per sbloccare tutte queste polizze di Eurovita che erano congelate da IVAS fino al 30 di giugno. L'accordo prevede la costituzione di una nuova società che gestirà questa massa di polizze in totale. Sono stati previsti e una suddivisione tra le varie compagnie assicurative, vi riporto poi qui l'articolo che specifica meglio. La parte importante è che sono stati coinvolti gli istituti di credito che prevede che saranno garanti nei confronti delle compagnie dove sono stati collocati questi prodotti e che nel momento in cui il cliente decidesse di chiedere di scatto alla polizza gli istituti dovrebbero infatti subentrare nel contratto e portarlo a scadenza, beneficiando dell'eventuale rendimento di morso di capitale. Questo è stato il passaggio principale per sbrogliare questa matassa. Qui vi riporto l'articolo su Eurovita. Alla prossima!